Lo studio Alex è uno studio che ormai già conosciamo che confronta Alectinib che è un nuovo alchinibitore verso crizotinib. Alectinib è un alchinibitore più potente più selettivo e che ha la capacità di passare la barriera ematoencefalica. Il dato che viene presentato ad ASCO è sul progression free survival che triplica il progression free survival che avevamo ottenuto con crizotinib. Quindi passiamo da 34.8 mesi rispetto a circa 11 mesi che era il vantaggio che dava crizotinib. Quello che è interessante sottolineare è anche che il farmaco è estremamente attivo sulle metastasi cerebrali. Questo probabilmente nel futuro cambierà anche la modalità di trattare le metastasi cerebrali in questi pazienti la cui prognosi per la prima volta nel tumore del polmone diventa simile ai pazienti che non hanno le metastasi cerebrali. Sicuramente è un grosso vantaggio perché il farmaco è molto ben tollerato. Noi scherziamo diciamo che è come dare le caramelle. L'unico effetto collaterale che hanno questi pazienti di cui ci accorgiamo noi medici quando vengono a fare gli esami del sangue possono avere dei rialzi delle transaminasi. Per il resto si dà la possibilità ai pazienti di fare per tre anni una vita assolutamente normale con un controllo delle metastasi cerebrali o con una prevenzione delle metastasi cerebrali.